Ciao a tutti ragazzi! Io sono a voi! Ma guardate cosa sono! Ma dove siamo qui? In Abruzzo? Dove siamo Emily? Al Lanciano! Siamo a San Vito, non proprio al Lanciano. Vieni qua, vai, vai! Vuoi vedere il mare? Sì! Eccomi qui! Iscrivetevi e lasciate un bel like! Ciao! Ciao a tutti ragazzi! Guardate cosa sono! Aspetta, questo è il mare. E questi qui dietro cosa sono Emily? Cosa sono? I tra? Bravo! Bravo! Ti piace? Guardate! Che bel posto! Se volete lo trovate nel link da sotto in descrizione Ti piace questo posto? Il tuo fratello? Guardate tutte queste robe verdi! Guardate queste robe verdi! Guardate queste robe verdi! Ciao a tutti ragazzi! Iscrivetevi nella nostra domanda! E qui così... E qui così... E qui così... Eh Emily, che cos'è una nave? Sì! Eh sì, però... No! Vai, vai! Ciao! 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 Emily! Emily! E qui? Ciao! 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 Grazie a tutti.